ciao a tutti, allora purtroppo sono stata malata sabato e domenica infatti dopo che vi ho fatto l'ultimo video, quello dei prodotti della haul che probabilmente metterò online dopo di questo dove avevo una voce terribile, mi è salita la febbre quindi ho passato sabato e domenica a letto con una febbre terribile e sono tutta costipata, sto malissimo però sono dovuta venire comunque a lavoro e non avevo tantissima voglia di star lì a vestirmi con i tacchi eccetera eccetera quindi oggi ho un outfit particolarmente casual e sportivo che però mi è piaciuto molto quindi ho deciso di farvi un piccolo video per farvi vedere come mi sono vestita ho i capelli raccolti da una fascetta per i capelli un trucco come vedete piuttosto semplice sui toni del violetto, del rame non si vede molto bene perché non c'è tantissima luce anzi magari tiro sulla tapparella ecco così è un po' meglio come vedete i colori sono questi e poi niente ho messo la mia collanina Tiffany che non utilizzavo da un sacco di tempo il mio solito Pandora niente di che e ho questa camicetta qui che è di Terranova molto semplice ma io la uso molto per la mezza stagione perché comunque è quel periodo in cui non ho ancora talmente freddo da mettermi la felpa però ho ancora abbastanza mi fa piacere avere un qualcosa a maniche lunghe e poi invece per quanto riguarda i pantaloni ecco qua ho questi jeans particolarmente molto slavati ve li faccio vedere qua di Dolce & Gabbana che mi piacciono particolarmente perché hanno questo lavaggio un po' particolare e niente poi come scarpe ho queste qui che sono le classiche scarpe che hanno dentro la zeppa in questo color rosso ruggine queste scarpe qua mi fanno impazzire ce le ho già da un annetto ecco qua si vede bene il trucco guardate vedete che è violetto con del rame e niente ce le ho già da un annetto le ho usate tantissimo e continuo ancora ad usarle e poi ho la mia borsa Arsti di Vuitton e niente successivamente stasera quando uscirò perché probabilmente dopo il lavoro devo andare fuori a cena velocemente anche se non mi sento tanto bene ho portato questa giacchina che è una giacchina che ho preso da Rinascimento che è un negozio che a Cagliari ha aperto dove prima c'era Terranova in via Garibaldi e praticamente questo giacchino costava 89 e qualcosa da un sui 90 euro e sono andata addirittura a pagarlo soltanto 26 euro quindi ho fatto un grande affare è una sorta di di parca sahariana che mi piace particolarmente guardate com'è com'è carino ha anche la zip ma ve lo faccio vedere velocemente allacciato con i bottoni eccolo qua che qua dietro ha un po' una coda adesso non so se madrizzando così si potrà vedere meglio ve lo faccio vedere tirandolo un po' su vedete che ha questa specie di di coda con i cosini che appendono e niente quindi è così io lo porto con le maniche risvoltate perché in effetti avrebbe avuto le maniche con i passanti su cui fa passare una roba con le fibbie ma mi faceva tanto impermeabile dell'ispettore Derek quindi non mi piaceva quindi lo lascerò così al massimo risvoltato una sola volta nel caso qui fosse troppo corto così che magari per i primi caldi può anche andare ma poi dà un po' fastidio e niente ragazzi questo è tutto un outfit veramente easy 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 diciamo che l'ho fatto giusto per spezzare un po' la giornata e venire qua a girare un piccolo video così da mettere online e vedo che i video outfit vi piacciono quindi a me fa molto piacere farne e niente spero di rimettermi al più presto perché effettivamente sono un po' giù e ci sentiamo presto ciao un bacio ciao ciao ciao